ciao navigatori arrivare a 90 anni è davvero un successo festeggiare il secolo di vita è un traguardo incredibile ma toccare gli oltre 200 anni anzi i 256 come lì chang yen sembra fantascienza l'uomo nato in gina precisamente nel 1677 a cui jang xian nella provincia di shuan morto sicuramente il 6 maggio del 1933 per cause naturali ciò che resta stupore che ci sono dei documenti merito sull'età anagrafica di lin chen prima di continuare ti invito iscriviti al canale per supportare questo progetto nei documenti imperiali è scritto di come ogni 50 anni veniva augurato il suo compleanno da parte di un imperatore dell'impero cinese nel 1827 fu la volta dell'imperatore duazhang fare gli auguri a lì chang yen per il suo 150esimo compleanno una vita intera dedicata alla spiritualità in particolare di king kong disciplina che comprende pratiche esercizi annessi alla medicina tradizionale cinese e alle arti marziali arti marziali anche come concentrazione della mente meditazione e tutto ciò connesso ai particolari movimenti di esercizio fisico secondo i racconti li prese la sua forza vitale nelle montagne dove ci rimase per cento anni raccogliendo e imparando tutti i segreti dell'erbe medicinale e bevendo vino di riso a 71 anni si arruolò nell'esercito cinese con il ruolo di tattico insegnante di arti marziali negli ultimi anni di vita il maestro avrebbe vissuto con la sua ventiquattresima moglie una donna di sessant'anni nel 1928 si contavano almeno 180 discendenti su 11 generazioni molti dei quali si presume già morti anche più di 150 anni nel 1927 il generale yang san amaliato dalla vitalità di questo incredibile uomo lo invita nella propria dimora qua scatata la sua unica fotografia a quanto abbiamo potuto appurare era un perfetto salutista è noto di come una rigida dieta alimentare annessa ad alcune tecniche di meditazione possa beneficiare per allungare migliorare la vita di un essere umano ma tanto per poter vivere fino a 256 anni fu anche un commerciante di links noto anche come reshi e un fungo polipoloso appartenente al genere ganoderma ma non solo bacche di goji ginseng selvatico delle quali preparava anche per se stesso delle tisane con altre erbe cinesi si dice che bevesse anche vino di riso nel 1933 dopo la sua morte un suo discepolo il suddetto yang sang scrisse come li qing yen seppur con più di 250 anni fosse stato un uomo fortunato descrivendolo avente una buona vista passo veloce e alto sette piedi a inizio del 1900 precisamente nel 1908 li qing e il suo discepolo yang hax yuksan pubblicarono un libro denominato i segreti dell'immortalità di li nel 1920 il generale yuksong yakte intervistò li pubblicando un articolo al riguardo nel giornale delle università di nanchino nel 1926 hu pefu invitò li a pechino questa visita coincide con l'insegnamento di li presso la società di meditazione dell'università di pechino su invito del famoso maestro di meditazione autore yin shi zi il mito di li apparve anche in un ecrologico sul new york times del 6 maggio 1933 qualche giorno dopo anche sul time gli abitanti della sua terra dicevano di conoscere li fin quando erano bambini e i loro nonni e bisnonni lo stesso asserendo che non fosse mai invecchiato quando murì furono fatte delle ricerche anche dal professore yuk chang hiyan riuscendo a scoprire la data del 1677 e anche quella del 1827 nel quale l'imperatore avesse rivolto gli auguri alì per il suo centocinquantesimo compleanno nel 1877 l'imperatore hua janz inviò a li una lettera dell'augurio per i suoi duecento anni ma questa non arrivò mai a destinazione poiché incombeva la guerra civile in conclusione l'età di li risulta oltre il doppio dell'età massima raggiunta da una persona 122 anni da parte di jean calmé se questo video ti è piaciuto lascia like sono curioso di leggere un tuo commento e secondo te è possibile davvero che quest'uomo sia vissuto fino a 256 anni alla prossima ciao Grazie a tutti